sono il 5 di mattina mi starete chiedendo quando ci faccio già svegliere 5 di mattina sono in la stazione a Varazze perché sto tornando a prendere il treno per andare e ve lo faccio vedere tra un buco già un buco, man Sì, sì, sì. e io faccio bene bene, perché io sono il Bars faccio a fare bene, perché io sono il Bars e io sono il Bars e io sono il Bars ci ho pensato soltanto ora però se avete cliccato su questo video sapete già dove sto andando quindi benvenuti a Rimini la prima volta che vengo a Rimini sono qua per la fiera delle bici per visitarla un po' e incontrare qualche mio sponsor e sabato ho una sessione autograffi con i ragazzi di Andreani, quindi andiamo! Buongiorno, benvenuti all'Italian Bike Festival dalla Valle Sciute Buongiorno, benvenuti all'Italian Bike Festival prima volta su un monopattino elettrico che figata comunque è una delle cose più instabili che io abbia provato nella mia vita pericolosissima, c'è il manubra che si muove un sacco pericolosissima pericolosissima e anche il secondo giorno si è concluso per me qua a Rimini, è stata una bella fiera, ho visto tantissime bici elettriche, però c'era parecchia gente, era molto grande, un sole incredibile, un caldo, però mi sono divertito parecchio questa cosa dell'elettrico mi sta iniziando a incuriosire, però è bello fare qualche giro particolarmente studiato per l'elettrica secondo me, le gare non le ho ancora capite molto, però sono molto incuriosito la parte della signora niente, rivi di Carina, però c'è già troppa gente adesso a settembre, chissà ad agosto e ora si ritorna a casa 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 e ora si ritorna a casa